Un camionista di nazionalità rumena alla guida di un tir è finito su un cantiere dell'A14 in territorio di Torino di Sangro e ha perso la vita. Feriti il figlio che era a bordo del mezzo pesante e sette operai. L'incidente l'ennesimo negli ultimi mesi sui cantieri dell'autostrada adriatica è accaduto la scorsa notte tra i caselli di Vasto Nord e Val di Sangro in direzione di Pescara. La vittima aveva 45 anni, leggermente ferito il figlio che viaggiava con lui, il tir come vedete dalle foto è finito su un cantiere, ha travolto sia gli operai che erano al lavoro che i mezzi dell'impresa che stava effettuando gli interventi di manutenzione alla rete viaria gestita da autostrade per l'Italia. Per l'autista del tir non c'è stato nulla da fare, alcuni degli operai sono stati trasportati negli ospedali di Vasto, Chieti e Pescara in codice rosso.